Visita in provincia per il presidente Nello Musumeci è arrivato a Riesi accolto dal sindaco Salvatore Chiantia. Primo appuntamento con i giovani del servizio civile che operano al comune e che svolgono attività di assistenza agli anziani. Poi un saluto agli impiegati dell'ufficio comunale ed infine ha incontrato la giunta e i consiglieri comunali nell'aula consigliare. Il sindaco ha espresso apprezzamento al presidente per la sua presenza nel territorio e la sua volontà di recarsi nelle singole amministrazioni comunali. Il presidente Musumeci ha detto serve fare rete tra cittadini e istituzioni, ognuno con il proprio ruolo superando la cultura dell'individualismo che accompagna da sempre noi siciliani.